I dati per l'Italia sono negativi, noi vogliamo in Emilia Romagna un segno positivo anche nel 2012 perché riteniamo che attraverso il sostegno al credito, la ricerca, l'internazionalizzazione e poi soprattutto l'energia da fonti rinnovabili dobbiamo dare un segnale chiaro, c'è ancora la condizione perché la nostra regione possa essere locomotiva del nostro paese. Lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare insieme alle imprese e dobbiamo soprattutto stare nel mondo, avere uno sguardo lontano per avere quella dinamica che consente di rafforzare l'export che è la condizione oggi fondamentale per continuare a crescere. Col patto per la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva noi abbiamo assunto un impegno molto forte, quello del patto intergenerazionale, quello di mettere risorse per sostenere la formazione, l'apprendistato ed essere in grado quindi di innestare all'interno delle imprese lavoro ma soprattutto lavoro formato, quello intellettuale, i laureati nostri che possono essere l'infa vitale per continuare a trasformare le aziende, a rafforzarle, a metterle in rete e quindi a stare nel mondo. Credo che questa sia la scelta più forte della nostra regione per consentire una crescita ulteriore nella nostra regione. Ricerca, internazionalizzazione e green economy, sono questi i punti cardini per avere un più il prossimo anno? Sì, soprattutto la ricerca e l'internazionalizzazione perché con l'internazionalizzazione dobbiamo attraverso le fiere e attraverso il sostegno alle imprese stare nel mondo, far conoscere i nostri prodotti che sono straordinari, farli conoscere di più per riuscire a farli acquistare nel mondo, un mondo che crescerà meno ma un mondo che ama il Made in Italy e ama il Made in Emilia Romagna.